Ciao a tutti con Super7 e come speciale 500 iscritti ho deciso di fare un montaggio di Mindstrike di 3-4 partite e non so se questo video sarà molto lungo però possiamo iniziare tutte le kill saranno consecutive Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti